Noi abbiamo da poco completato le operazioni che riguardano l'assegnazione della gara per la realizzazione di 424 loculi qui ai Rotoli. 424 loculi sono pochi ma sono tanti perché dobbiamo dare risposte alle mille famiglie che in questo momento hanno i loro cari in deposito temporaneo presso il nostro cimitero. Dico mille perché è un numero che oscilla tra 1017, 999, 998, Palermo si continua a morire e sebbene riusciamo a trasferire le salme al Sant'Orsola grazie anche al protocollo, questo numero non lo riusciamo a ridurre se non con interventi significativi come quello dei 424 loculi. Operazione che si concluderà mi auguro entro maggio, mi auguro perché c'è sempre un impedimento dietro l'angolo ma siamo sempre vigili affinché questi impedimenti vengono prevenuti e superati. Si tratterà di realizzare questi 424 loculi in prossimità della chiesa nei due viali adiacenti, il Santa Maria e il Santissima Trinità, loculi incastonati all'interno delle alberature. E' un intervento che ha avuto anche il parere favorevole ovviamente della sovrintendenza, quindi sarà non un pugno nell'occhio ma sicuramente sarà coerente con il cimitero monumentale qual è quello dei rotoli. Quindi in base a quello che lei prevede a maggio 424 salme troveranno sepoltura? Sì, attraverso questo intervento, ma noi non ci fermiamo, non ci siamo fermati e abbiamo inviato al Ministero degli Interni un programma di utilizzo dei 2 milioni di euro che il Governo nazionale ha concesso alla città di Palermo per tentare di dare un'ulteriore misura di mitigazione di questa emergenza cimiteriale, che prevede la realizzazione di un piccolo campo di inumazione e poi anche il recupero delle diverse sepolture con opere murarie che concederanno anche attraverso le stimolazioni delle salme nuovi loculi per un ammontare complessivo di circa 600 loculi. In un programma che si svilupperà non appena saranno disponibili le somme e che si potrà concludere entro dicembre del 2022.